Rivolgo inoltre un sentito ringraziamento a nome di tutti gli appartenenti alle forze di polizia al Presidente della Repubblica per la solidarietà espressa agli agenti della Polizia di Stato che ieri a Torino, mentre svolgevano un servizio connesso al rimpatrio di un immigrato pluricondannato per gravissimi reati, sono stati vittime di una violenta aggressione da parte di un nutrito gruppo di anarchici. Grazie. Ringrazio il Presidente Mattarella anche per aver ribadito sia a me che al Capo della Polizia la piena fiducia e la vicinanza nei confronti della Polizia di Stato. Per favore, colleghi, facciamo concludere il Ministro. Dicevo, vengo alle conclusioni dell'informativo. Io ho condiviso pienamente le parole pronunziate dal Presidente Mattarella l'indomani degli scontri di Pisa. Colleghi, basta però. Adesso basta. C'è un dibattito dopo l'informativa. Vi ho richiamato già alcune volte. Non si fa la manifestazione con il mugugno o con altro. Da rispetto per il Ministro voi avrete ognuno poi il tempo per poter replicare ciò che credete. Prego, Ministro, concludo. Come il Capo dello Stato sono convinto anch'io che l'autorevolezza delle forze di polizia non si nutra dell'uso della forza. Questa autorevolezza si fonda sul sacrificio di centinaia di caduti nella lotta al terrorismo e alla criminalità. Grazie.